Conosciamo tutti la Venere, ma vi siete mai chiesti che fosse nella realtà quel volto angelico e idealizzato dal Botticelli? Quella ragazza, un nome ce l'aveva, Simonetta Vespucci, la Venere più bella del Rinascimento e una delle donne più belle della storia, soggetto per tanti e tanti quadri rinascimentali e ideale di bellezza angelica di quel periodo storico. Simonetta, a 16 anni, nel 1469, si sposa con Marco Vespucci, parente del famoso Amerigo, a Genova. Poi si sposta a Firenze, dove la ragazza viene accolta dai fratelli medici, Lorenzo e Giuliano. E Lorenzo, per lei, perde la testa subito. Dopo qualche tempo, per lei perde la testa anche Giuliano, che vince un torneo dedicato alla ragazza. E i due diventano amanti. Ma Simonetta non ha una vita lunga. Il 25 aprile del 1476 la ragazza muore, forse di tubercolosi, forse di tumore. Ma queste sono solo ipotesi. Di lei rimane il ricordo della sua grazia e bellezza. Per un nome della storia dell'arte tanto significativo quanto ormai quasi dimenticato.